salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video oggi siamo su smash it ovvero un gioco che praticamente dobbiamo camminare dobbiamo rompere dei vetri contemporaneamente mentre stiamo camminando un gioco spettacolare che ho voluto portarvi sul canale e un gioco davvero anche incansabile perché si fanno dei fail della madonna e vabbè come lo solito prima di cominciare mi invito a lasciare un bel like alla mia pagina facebook che trovate sempre il link in cima alla descrizione detto questo partiamo perfetto ragazzi siamo su smash it io direi di avviare la partita ecco sì adesso mi esce il game center non lo so perché beh per chi non lo sapesse potete scrivere al game center così fate i record io direi di partire perfetto adesso vi faccio vedere un po ecco tocca per lanciare le palline in poche parole mentre camminiamo dobbiamo lanciare vedete queste palline e queste palline praticamente faranno esplodere no faranno spaccare questi cubetti di vetro noi più palli più praticamente più più cosi rompiamo più più praticamente più il record faccio ecco per esempio questa è una sbarra di vetro che dovevo romperla dobbiamo centrare quel buco vedete si lo so sono quanto bravo e vi giuro che la prima volta che ci sto giocando perché diciamo che l'ho scaricato vedete ecco dobbiamo dobbiamo ecco si arriva un certo punto che ci va c'è arriva un certo punto che che ti gira la testa c'è perché ci stanno tanti di quei triangoli io una volta ho battuto il record ma non credo che lo batterò un'altra volta perché quando avverrà questo giorno che ho battuto i record dei giochi mai vabbè e poi dobbiamo ecco adesso sto facendo un record di merda sicuramente ecco non ho preso quello lì però a volte possiamo anche evitarli di prendere queste lastre vedete i fail come arrivano piano 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 e prendendo questo ecco adesso abbiamo preso il bonus che praticamente per palline infinite ci permetterà di rompere vedete è molto figo che se gioco vi invito a scaricarlo e intanto che giochiamo che non stanno ancora di ma ecco preso il checkpoint quindi abbiamo salvato la partita e prima di volevo dirvi che comincerò la serie dei migliori giochi ovvero dove ogni settimana vi mostro un gioco che mi è piaciuto in positivo diremi nei commenti che cosa ne pensate di questa serie perché voglio farla sì è una serie un po è una serie semplice quindi dove vi mostro i giochi migliori che mi sono piaciuti è un po una bella idea dai ciao una bella idea stavolta ho pensato pensato allora continuiamo ecco batteria scarica c'è io ogni volta che faccio un cazzo di gameplay batteria scarica una cosa incredibile no 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 aspetta ecco perfetto perfetto si rompe tutto si rompe perfetto e poi dovete andare così avanti e così vi divertite con questo gioco a rompere i triangolini di vetro wow chi è che si divertirebbe a rompere i triangolini di vetro credo nessuno no perfetto ragazzi ci siamo divertiti a rompere i vetri che bella cosa però gente devo dire la verità non abbiamo fatto tanti fail vabbè come al solito prima di concludere anche per questo video siamo giunti al termine come al solito prima di concludere volevo invitare un bel pollicione insomma lasciate anche un commento iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi folli video seguitemi sulla pagina facebook link sulla descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video